Ciao, oggi vedremo come eliminare la griglia quadrettata in OpenOffice Writer. Allora, molto spesso capita di aver inserito un modello che ci permette di avere il foglio già quadrettato, però molti mi hanno segnalato che dimenticano come fare il contrario, cioè a eliminarlo. Quindi ogni volta che uno apre un documento nuovo, continua a venire fuori il foglio quadrettato. E' semplicissimo, allora andiamo su strumenti, opzioni, OpenOffice Writer, mettiamo che è così, apriamo questo, griglia e togliamo il flag su griglia visibile. Ok, è risolto. Quindi il modello sarà sempre attivato, però ogni qualvolta noi desideriamo avere un foglio quadrettato visibile, faremo il contrario, quindi strumenti, opzioni, mettiamo qui, lo apriamo, griglia, griglia visibile, ok. Quindi avremo nuovamente il foglio quadrettato, abbastanza semplice, perché il modello resterà comunque già selezionato. Nel caso dobbiamo fare per gli insegnanti i lavori che su fogli normali di Word lo eliminiamo. Ripetiamo per l'ultima volta ancora, quindi strumenti, opzioni, lo troveremo chiuso questo menu, lo apriamo, non questo, attenzione dove è scritto web, ma Writer, griglia, deselezioniamo, ok, risolto. Ciao, grazie, alla prossima.